Facciamo il punto sulle politiche a sostegno dell'innovazione e sul loro impatto sulle aziende farmaceutiche con la dottoressa Paternello di GlaxoSmithKline in occasione del decimo convegno nazionale su economia del farmaco e delle tecnologie sanitarie. Dottoressa Paternello, il fatto che un'agenzia regolatoria scelga una politica a sostegno dell'innovazione piuttosto che un'altra, quali conseguenze pratiche ha poi dal punto di vista delle scelte che fanno le aziende farmaceutiche? Moltissime, perché se pensiamo che l'indirizzo per esempio verso aree di ricerca come alcune malattie, per esempio le malattie rare, piuttosto che l'indirizzo verso strumenti e metodologie di ricerca e sviluppo che facilitino per esempio la ricerca attraverso endpoint surrogati o disegni adattativi fa sì che le aziende possano incentivare molto alcune aree di ricerca e quindi accelerare dei processi di ricerca e sviluppo sempre che poi questi stessi processi risultino anche adeguati alla rimborsabilità. Faccio un esempio, se scegliamo di lavorare, di fare dei clinical trials su endpoint surrogati perché aderiamo ad un programma di incentivo dell'FDA, dobbiamo essere sicuri che poi quando arriviamo alla rimborsabilità questi stessi principi vengono mantenuti, altrimenti produciamo moltissimi trial ma di fatto pochissimi farmaci vengono rimborsati a quelle condizioni. Ecco come fa un'azienda oggi a dimostrare il valore di un farmaco tenendo conto appunto della complessità del sistema e del giudizio dei payers che poi è l'elemento discriminante più importante? Sì, oggi il giudizio dei payers sicuramente ha un'importanza molto maggiore e certamente un'importanza molto vicina nel tempo, mentre il valore è qualcosa che viene progettato e che ha bisogno dei tempi della ricerca e sviluppo che sono molto lunghi. Quindi la prima cosa è pensare che il valore è qualcosa che si progetta, non che si documenta soltanto. Fare uno studio di superiorità è una decisione che ha effetti importanti sul valore e che viene presa 5, 6, 7 anni prima del momento della rimborsabilità. Una volta che è stato progettato il valore bisogna documentarlo e qui diciamo c'è tutta la parte che riguarda sia gli studi clinici ma anche tutta la capacità di mettere insieme le evidenze in un modo adeguato e idoneo alle decisioni di rimborso e poi c'è l'ultimo punto che è il valore è qualcosa che cambia nel tempo, cambia nel tempo e ha bisogno di continuare attività di valutazione, anche successivamente l'introduzione dei prodotti nel mercato. Quindi quello che noi chiamiamo l'HTA 2.0, cioè non fermarsi ad un'attività di Air Technology Assessment finalizzata alla rimborsabilità, ma continuare ad utilizzare tutte le informazioni che vengono disponibili, che sono molte di più dopo l'introduzione del prodotto, che abbiamo chiamato in un recente articolo HTA 2.0. Ecco, queste attività appunto di progettazione del valore, di messa a punto della documentazione necessaria per poi documentare l'effettiva utilità del farmaco, sono da considerarsi una specie di partita a scacchi tra l'azienda e i pay-offs, quindi tra avversari, oppure si può anche pensare a una specie di gioco di squadra con le opportune regole? Ma purtroppo oggi sembrano di più una partita a scacchi che non un gioco di squadra, ma in realtà tutti sappiamo, e qualcuno anche lo dice, per esempio il NICE, che l'interazione tra l'industria e gli stakeholders, tra l'industria e i pagatori in particolare, è un'attività che deve avvalersi di una certa interazione, quindi non può essere una serie di mosse una in reazione all'altra. In realtà, se pensiamo che bisogna progettare il valore molti anni prima, è necessario che in quel momento si incontrino tutte le parti interessate, perché altrimenti qualsiasi sviluppo del valore è subottimale rispetto a quello che potrebbe essere. Ecco, per finire, ci fa qualche esempio pratico di vostra attività realizzata appunto dalla filiale italiana di GlaxoSbitKline sull'HTA che vadano appunto nella direzione della partnership. Ma noi abbiamo due iniziative importanti, una è globale, si chiama Reimbursable File ed è un'iniziativa che il nostro CEO ha messo in piedi ormai qualche anno fa, che cerca di avvicinare i processi di registrazione a quelli della rimborsabilità, attraverso una serie di iniziative che riguardano la qualità degli studi. L'altro processo invece molto locale è quello che noi abbiamo avviato già nel 2005, intraprendendo per ogni nuovo prodotto un'attività di Air Technology Assessment che mette o che cerca di mettere in congiunzione le informazioni di cui noi disponiamo, le capacità, le competenze dell'Accademia, quindi sia di tipo metodologico che clinico e di ricerca e le aspettative del pagatore o dei rappresentanti del sistema decisionale che insieme dovrebbero raggiungere una documentazione che noi chiamiamo report di HTA e che pubblichiamo in modo trasparente per ogni prodotto che potrebbe rappresentare una base informativa buona per i processi decisionali sia nazionali che regionali e locali.